Insieme a Michela Canova stiamo vantando seriamente la possibilità di un ricorso in appello al Consiglio di Staglio in cui nega che ci fossero dei piccoli vizi formali. Quello che noi vogliamo sottolineare sono due cose sostanzialmente. La prima è che a tutte le liste che avevano dei fudeli simili al nostro è stato concesso di andare a correggere, integrare, modificare la documentazione tranne a noi due. E il secondo è che per noi la pubblica amministrazione in tutte le sue forme che sia l'Ufficio Elettorale del Comune o la Commissione Elettorale devono agevolare la partecipazione dei cittadini fornendo le corrette informazioni rispetto alla presentazione dei documenti che stanno realizzando. Questo nei nostri casi non è avvenuto. Dico che abbiamo deciso con Roberta Roberti di convocare questa conferenza stampa anomala in piazza perché la piazza è il luogo dove la democrazia anche si confronta e si svolge e noi riteniamo che in questa occasione sia mancata veramente una possibilità di partecipare democraticamente a una competizione elettorale perché avremmo potuto integrare documenti mancanti o documenti imprecisi, in esatti o in idonei semplicemente attraverso una corretta chiamata da parte dell'Ufficio Elettorale del Comune abbiamo più o più volte provato a sollecitare se c'era necessità di procedere in questa direzione, sembrava tutto a posto e poi invece le cose stavano diversamente. Io per una questione, Roberta Roberto per un'altra, si chiedeva di poter partecipare non certo di farci vincere e così invece non siamo riusciti neanche a partecipare ed ora decideremo anche come procedere.